che deciderà la rete insieme ai capigruppo di tutti i partiti della Camera e del Senato. Quindi io credo che nei momenti in cui si comincia ad uscire dalla logica, noi abbiamo detto diverse volte del pollaio paesano, perché purtroppo dobbiamo parlare anche di queste cose qua, quando a partire da una piccola voce si riesce a congiungere quello che è il territorio nazionale, perché comunque noi stiamo parlando, e questo è il dato fondamentale, io credo che le testimonianze di oggi, purtroppo il tempo non ci ha aiutato, le testimonianze di oggi vogliono significare che questi gridi, questi atti di ribellione che avvengono nei vari territori, se cominciamo a rompere questi recinti, diventa veramente questa rete, questa rete che può diventare una voce unica a livello nazionale. Noi cercheremo, al di là delle varie situazioni locali, perché dopo ognuno se ne insolverà nei propri territori, quello che noi stiamo lavorando oltre i confine, è proprio questa idea qua, perché dobbiamo avere la consapevolezza che dobbiamo essere considerati cittadini come tutti quanti gli altri.